ok questa parte qua, la parte 4 è l'ottimizzazione delle mesh, sarà abbastanza rapida come vedrete nel senso che per ottimizzare le mesh, quindi per ridurre questo numero di vertici sarà sufficiente selezionare tutto, come vedete che ho fatto fate CTRL J per unificare tutto e vedete che ci impiega un po' di secondi a farlo però vedete che ha fatto un'unica mesh, quindi adesso non sono più tutte le mesh diverse ma sono un'unica mesh, però abbiamo ancora 741.000 vertici che sono tantini quindi bisogna andare con TAB, si va in modifica e poi a questo punto bisogna ottimizzare, quindi bisogna fare i mesh e poi facciamo merge by distance nel senso che dobbiamo praticamente mergiarli per distanza e quello che dovrebbe succedere è che dovrebbe ridurre il numero di vertici ma dire di sì che abbiamo ridotto sensibilmente il numero di vertici perché siamo passati da, prima eravamo 700.000 e siamo arrivati praticamente a una quantità più piccola di vertici e sicuramente facendo TAB di nuovo abbiamo praticamente una cosa un po' più leggera decisamente più leggera, quindi se noi facciamo TAB dobbiamo vedere che ci sono un pochino meno vertici perché nella versione originale portata da Google Maps visto che viene praticamente fatta a quadratini tanti quadratini sovrapposti, un po' come in Minecraft ogni quadratino ripete i vertici del quadratino adiacente e quindi si risparmia una quantità di vertici abbastanza grossa quindi siamo passati da 700.000 a 200.000 quindi sono ridotti di un quarto circa quindi una quantità notevole quindi questa è la parte di semplificazione della mesh adesso vedremo nel prossimo video come semplificare le texture nel frattempo comunque ne approfittate e fate anche un save, save as e quindi questa cosa qua la chiamate borgo medievale ok, borgo medievale così abbiamo abbiamo praticamente siamo tranquilli che anche se cresciasse con l'operazione che stiamo facendo possiamo ritornare dove eravamo vedete con le mesh le abbiamo fatto in fretta uno ist ecco 65 60 70 62 62 62 63